Ma guardi, ci sono state introdotte alcune leggi, il dopo di noi, penso al premio alla nascita, il bonus bebè per chi porta i bambini all'asilo nido e li iscrive, a sostegno di politiche per la famiglia che guardino anche un sostegno a chi ha il coraggio di fare figli e la speranza, perché abbiamo bisogno di invertire una curva di denatalità che rischerebbe di mettere questo paese ad avere troppe persone anziane, che è un bene, si vive più a lungo, è un fatto straordinario, ma bisogna anche che abbiamo un numero necessario di bambini, di ragazzi, di ragazze per la vitalità e il futuro e la speranza nel futuro di questo paese. C'è un bisogno di un sostegno che prosegue, ho detto che le regioni devono impegnarsi, ad esempio, nella parte che li riguarda sugli 0-3 anni, cioè sugli asili nido, che garantiscono una prima agenzia educativa per i bambini, non un parcheggio, ma garantiscono anche alle mamme che vogliano lavorare o trovano un posto di lavoro di poter avere la garanzia che ci sia una istituzione che le aiuta, però bisogna che rendiamo più flessibili quei servizi. Noi abbiamo fatto in Emilia Romagna, ad esempio, una legge che nella riforma degli 0-3 anni, la sera, i sabati, permette una flessibilità maggiore per come è cambiata la composizione delle famiglie, perché ci sono nuclei monoparentali, perché sono cambiati i tempi di vita e di lavoro delle famiglie stesse. Poi serve il sostegno alla povertà, abbiamo detto, ci sono già tre regioni, tra cui la mia, che hanno affiancato al provvedimento nazionale per la povertà minorile, al reddito di inclusione, altre tante risorse, perché sappiamo che la povertà in questo paese negli anni della crisi è cresciuta e nonostante si sia usciti dalla recessione vi sono ancora nuclei familiari o persone in grande difficoltà, in particolare quando hanno bambini e quindi minori. Su questo però noi pensiamo serve una politica non di carità ma di dignità e quindi a fianco di assegni verso chi non ce la fa e ha perduto il lavoro servono però politiche di reinserimento lavorativo e formativo. Da ultimo citavo il tema delle politiche del welfare e per la non autosufficienza. Con soddisfazione abbiamo raggiunto un accordo la scorsa settimana per ripristinare interamente i 310 milioni di euro del fondo per il welfare così come il fondo nazionale per la non autosufficienza grazie all'intervento delle regioni in questo caso è stato portato da 450 a 500 milioni di euro.